Con Anarita Taurino, MA Eventi, bellissimo appuntamento, il primo dell'on tour del premio Puglia Voice 2024 qui al centro commerciale Porte dello Ioni, ormai è un collubio che si consolida di anno in anno. Sì, questo alle Porte dello Ioni ormai è un appuntamento fisso, ci fa piacere, è una location bellissima è un punto nevralgico della città di Taranto e non c'è un posto migliore per far esibire i nostri artisti come avranno visto tutti quanti, migliorano di anno in anno. E questo ci fa solo che piacere. 12 artisti tra interpreti, cantautori e band con ospiti ritmo binario che ci hanno fatto ballare al suono della pizzica. Io adoro la pizzica, quindi per me sentirli è stato veramente uno spasso. Loro sono bravissimi, speriamo di aver divertito ma ne sono assolutamente certa e speriamo di riaverli con noi negli altri appuntamenti del Puglia Voice on Tour. Tanto per far capire agli amici che ci stanno seguendo, tra i ragazzi che si sono succeduti sul palco c'è anche Martina Malagnino che ha partecipato a Tagli e Coaliscio interpretando un'ottima Britney Spears è stato un piacere rivederla qui a Taranto. Assolutamente sì, insieme a lei c'è anche Mattia, Mattia ha partecipato al programma Mediaset Io Canto quindi per noi è veramente un onore avere questi ragazzi nel nostro parterre quindi vuol dire che qualcosa di buono lo stiamo facendo e di questo siamo fieri e orgogliosi. Nei prossimi giorni conosceremo le date delle prossime tappe? Sì, assolutamente sì, possiamo solo spoilerare che magari l'ultima sarà rifatta in Arena Villa Peripato.